L'annuncio della nuova giunta regionale è previsto già per la giornata di domani. La formalizzazione dell'esecutivo è attesa invece per il prossimo 22 luglio. Nel frattempo dovrebbero arrivare anche le dimissioni del presidente del consiglio Antonio Scalzo, indagato nell'inchiesta sui rimborsi ed imputato nel processo sulle assunzioni all'ARPACAL. Ieri il capo dell'assise all'interno dell'astronave ha annunciato attraverso un cinguettio del suo portavoce la convocazione dell'ufficio di presidenza e della conferenza dei capigruppo per la prossima settimana. La data più probabile è quella di lunedì 13 luglio. Non sarò certo io, ha chiarito Scalzo, l'ostacolo al cambiamento, esprimendo in modo lapidario piena condivisione della linea politica dettata dalla Segreteria Nazionale del Partito Democratico. A proposito, Largo del Nazareno prepara in queste ore il dossier che dovrebbe rivoluzionare il PD alla punta dello stivale. Grazie per la visione!